Vice Presidente AXI e responsabile nazionale di AXI Ciclismo, l'Associazione Centri Sportivi Italiani, ciao e benvenuto, eccoci qui. Allora, a questo punto torniamo su un tema della bici, non solo appunto agonistica sportiva, ma invece come appunto per passione e per diletto e quindi per capire come siamo messi in Italia rispetto al resto del mondo, visto appunto abbiamo detto fin qui che siamo comunque un popolo di ciclisti esigenti per quanto si dicesse anche stamattina che insomma la bici viene quando appunto a livello emotivo e di percezione è sempre a massimi livelli in qualsiasi questione che venga fatto, quando poi si va nel concreto di quanti usino la bicicletta in Italia non sono poi così tanti, è vero che così? Allora, intanto buongiorno a tutti, sicuramente è vero perché prima di tutto bisogna dire è stato detto, però qui si parla di eventi amatoriali. Extra Giro era certamente una grande garanzia organizzativa perché non dimentichiamocelo, organizzare un campionato del mondo per professionisti in poche settimane era un'impresa forse più difficile da pensarsi che trovare il coraggio di metterla in piedi. Bisogna però dire che organizzare le gare dei professionisti non me ne voglia nessuno ma è molto più semplice che organizzare eventi per amatori. Il motivo è che il gruppo di professionisti è un gruppo ristretto di persone, è un gruppo che ha grande omogeneità di prestazione, cioè sono tutti atleti di un livello eccezionale che permette loro di fare quella professione. Qui invece ci occupiamo di attività amatoriale che è tutta un'altra cosa e per far sì che l'evento amatoriale sia un evento grande, un evento importante, un evento che le persone ricorderanno, tu devi in primis andare a garantire una cosa che è la sicurezza di tutti, quindi troverai il paraprofessionista ma troverai quello che arriva dopo ore e quindi devi mettere in sicurezza tutto il gruppo. Come lo vai a fare? Collaborando con le istituzioni, collaborando con le amministrazioni e andando a garantire quella che è una chiusura a strada importante, che anche qua sembra tutto facile, però quando tu vai a dire ad un'amministrazione che la strada sarà chiusa per un'ora e mezza è vero, devi far capire che è un evento che ha un indotto economico importante, però logicamente è tutto un lavoro anche di relazioni politiche che è un lavoro molto difficoltoso, un lavoro che richiede tempo e quindi il grande successo che possiamo decretare già adesso di questa manifestazione è che il lavoro è stato fatto in un tempo che è davvero molto breve, il risultato delle iscrizioni è andato secondo me davvero al di là di ogni più rosa aspettativa e poi veramente la... Senza troppe proteste da parte dei locali che si sono viste le strade chiuse... Le proteste magari ci sono state, c'è stata una grande relazione politica che è stata fatta dagli organizzatori, è un evento che la regione, che le istituzioni hanno voluto guardo Gian Maria, però lui l'ha già detto nella sua relazione, quando le amministrazioni vanno a capire l'importanza, vanno a capire l'indotto economico di un evento come questo non possono far altro che appoggiare eventi perché sono eventi non agonistici, sono eventi di promozione del territorio, sono eventi che portano gente perché se parliamo di 2.000, di 2.500 iscritti comunque ci sono gli accompagnatori, quindi in questo weekend a Parma ci saranno 5.000, 6.000, 7.000 persone che sono venute per questo evento. Il legame tra il mondo amatoriale e il mondo professionistico nel ciclismo è sempre perfettamente proporzionale o no? Allora, un legame che non è proporzionale perché di fatto chi si avvicina ad un evento di tipologia agonistica lo fa certamente perché ha uno spirito emulativo di quello che succede nelle gare professionistiche, però soprattutto nel post-Covid c'è stata un'accelerazione di alcuni meccanismi che ha portato anche a dei cambiamenti che noi vediamo come organismo associativo in maniera forte perché comunque ci sono persone nuove ma quelle persone nuove non sono persone agonistiche, sono persone che hanno voglia di pedalare, che hanno bisogno di nuovi format, che hanno bisogno di componentistiche diverse, che hanno voglia di qualcosa che non era l'attività amatoriale che magari pensavamo fino a un po' di anni fa, che era un'attività amatoriale prevalentemente legata alla gara circuito ma che dal punto di vista economico non portava ritorno alle amministrazioni dove si svolgevano gli eventi. Quindi è un mondo che si sta trasformando molto velocemente e anche qua grazie a realtà come extra giro riusciamo ad andare a creare dei parallelismi tra il mondo professionistico e il mondo amatoriale. È stato fatto il trofeo alle gueglie, la gara di apertura del calendario nazionale dei professionisti, un'ora dopo è stata fatta la partenza di un gruppo molto nutrito di cicloamatori che erano alla gueglie per guardarsi l'evento e che poi si sono fatti la loro pedalata. Quindi questi due mondi che un tempo erano così distanti ora si stanno parlando. E voi come Axi Ciclismo rappresentate quanti amanti delle due ruote? Noi rappresentiamo circa 55.000 tesserati in Italia che è un dato decisamente importante perché purtroppo per fortuna non ci sono così tanti, ci sono tante persone appassionate ma il mondo che magari si avvicina ad un organismo per tesserarsi è un mondo che prevalentemente lo fa per partecipare agli eventi e quindi diciamo che è un numero abbastanza importante certamente di praticare. Quanti siete la più importante tra le associazioni? Sicuramente siamo l'organismo più numeroso dal punto di vista associativo. Cioè voi si stima che in Italia siano quanti tesserati e quanti appunto? Circa 120.000 tesserati tra tutti. Quindi tra tutti vuol dire in una platea suddivisa tra la federazione ciclistica con i master e i 14 inti di promozione. Ok. Dal 2023 mi sembra sia stato un anno scorso che è stato introdotto all'articolo 30, lo diceva prima Manghi nell'articolo 33 della Costituzione e lo sport appunto come valore promosso dalla Repubblica. È cambiato qualcosa o no? Allora è cambiato tanto? Forse per cambiare poco o meglio dovrebbe cambiare molto di più perché se viene garantita a tutti la possibilità di fare sport dobbiamo anche qua andare a colloquiare con la politica perché il diritto di fare sport deve essere riconosciuto allo sportivo anche con infrastrutture, anche con iniziative che purtroppo adesso non ci sono. E quindi bisognerà arrivarci sicuramente facendo sistema tra organismi, politica e tutto quello che ci si può mettere. E immagino che la situazione sia a macchia di leopardo all'interno del paese come lo è su quasi tutti i fronti che si possano affrontare, che lo sia anche nel ciclismo. Assolutamente sì, anche se qua non è perché siamo a Parma e quindi dobbiamo parlare bene dell'Emilia-Romagna, però come diceva Gian Maria dal 2020 la regione ha messo appunto un sistema che ha visto lo sport al centro di quella che era un'idea politica e quindi è una regione certamente virtuosa che è riuscita addirittura a portare in Italia un evento che è il Tour de France come è stato detto è il terzo evento al mondo. Bene, ringrazio Emiliano Borgna e so che siete tutti coinvolti in queste due giorni. Grazie.